Noi crediamo che la soluzione del problema che si è aperto nelle scorse ore con le dichiarazioni del dottor Tavecchio, con le dichiarazioni razziste del dottor Tavecchio, sia proprio un passo indietro del dottor Tavecchio, che eviterebbe al mondo del calcio di affrontare nei prossimi mesi un problema oggettivamente difficile come quello di un presidente che ha pronunciato frasi razziste e che magari domani dovrebbe occuparsi di casi di razzismo proprio sugli spalti degli stati italiani.